Oggi è il primo dicembre, ma sapete che giorno è il primo dicembre? Beh, l'inizio dei Vlogmas! Ebbene sì ragazzi, quest'anno ho deciso anch'io di portare i Vlogmas, ovvero un video al giorno da oggi fino al 25 di dicembre, quando poi uscirà lo speciale natalizio, come ogni anno. Beh, cosa faremo in questi Vlogmas? Lo scoprirete presto, non ve ne preoccupate. Beh, io vi auguro un buon proseguimento e buona visione per tutti i contenuti che usciranno da qui a Natale.